Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Fortnite con un nuovo episodio dell'atterro per un'ora per andare nel mondo sotterraneo, ovvero Dade. Dopo un primo episodio dove siamo andati al Monte Olimpo e non è che sia andata proprio benissimo dal buon Zeus, eh? Cerchiamo di riprendersi un attimino quest'oggi. Vieni di continuare col video, però ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGY, se non ti è tutto grande, tutto attaccato alle cose oggetti di Fortnite, mi raccomando ragazzule, è davvero fondamentale per supportarmi. Quindi controllate sempre che sul supporto a un creatore ci sia scritto GGYT, tutto grande, tutto attaccato anche perché ogni due settimane il codice scade e dovete reinserirlo. Grazie proprio di cuore a chi lo farà, è davvero fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto per non perdere tutti i prossimi episodi, lasciate un bel mi piace per supportare la serie dell'atterro per un'ora e fatemi sapere sotto nei commenti dove atterrare nel prossimo episodio. Mettiamo pronte e vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Ok, comunque la partita l'ho startata a 1 minuto e 17 secondi dallo start della registrazione, quindi quando saremo a un'ora 1 minuto e 17 secondi non potrò più startare partite. E olè, prima partita, subito praticamente uno dei primi punti d'atterraggio per noi. Va bene, oh mio Dio, mi dimentico sempre di cambiare sta maledettissima scia che non mi fa vedere nulla. Ho 0 di ping che però fortunatamente si sta alzando. Dico fortunatamente perché era palesemente fake e in realtà voleva dire semplicemente laggare. Raggare, vediamo un po', ragazzi, vediamo un po'. C'è una marea di gente come potevamo aspettarci lì, però c'è una chest leggendaria, signori. Proviamo a prenderci subito la chest leggendaria. Dammi un bel pump, va? Allora, ma do! Subito, così, ci dà il pump come richiesto. Ok, abbiamo dei passi qui. Allora, non so se... Ok, dicevo, non so se pusharlo subito ma probabilmente... Ah, ce l'ho già, c'ho già la corona? Oh mio Dio, c'ho già la corona e neanche me ne ero reso conto, ok. Allora, continuiamo a lutare. Allora, fermi un attimo. Oh mio Dio, oh mio Dio. Così cattivo, bro. Perché? Oh mio Dio, ma regà! Raga, avete visto quanto stava laggando il bro? Cioè, stava tipo fermo immobile. Io mi vorrei fare lo shield, ma il problema è che se questo c'ha... Il fulmine è un bel macello. Ora, io i fulmini di Zeus l'ho lasciati un attimino stare. Ok. C'ha cinque colpi il pump. È quello col caricatore aumentato? Si può mettere il caricatore aumentato su questo? Ok. In realtà, ragazzi, i fulmini qua li vorrei tenere un attimino. La folgore di Zeus. Che comunque, raga, in build potrebbe davvero essere devastante. Ok, raga, sta lì. Madonna mia, regà, l'ho preso! Madonna mia, raga! Ragazzi! D'ora in poi! Chiamatemi Zeus! Il dio dei fulmini! No, in realtà è abbastanza facile da utilizzare. Devo essere sincero. Più che altro l'ultima hit è sempre davvero clamorosamente grande. Quindi riuscire a farla entrare è abbastanza facile. Ora, la domanda è, lui aveva preso la corona di quello che avevo ucciso prima? Oppure è una lobby di gente con la corona? Ma soprattutto, mi ha segnato altri passi. È palesemente qualcuno che sta camperando da qualche parte aspettando che qualcuno sfidi Ade. Ma è proprio palese. Eh, raga, sì, qua ho sentito anche distruggere qualcosa. Quindi devo stare molto, molto attento. Eh, io però, ragazzi, per sfidare il boss aspetto un attimino, eh. Non me la fido a sfidarlo immediatamente, vi devo dire la verità. Sia per il tipo qua che mi ha segnato qui vicino, ma anche proprio a prescindere. Siamo ancora in safe, quindi qualcuno verrà sicuramente qua. Oh, bella sta cesta che sta spaccata. Dunque, ragazzi, volare con le ali, io sono sempre più convinto, è pericolosissimo, eh. Cioè, volare con le ali di Icaro è davvero... Eh, passi, passi, passi. È davvero pericolosissimo. Allora, raga, questo mo' stava sopra, sotto, in mezzo. Dov'è? Ok, passi di nuovo. Raga, cioè, nel senso, mi sta facendo impazzire. Cioè, dov'è? Cioè, mi segna i passi molto vicini, no? E quindi, teoricamente, dovrebbe stare più o meno sul mio stesso piano. Però poi non c'è. Ok, passi di nuovo. Eccolo. No, non è mio, sto. Ma... Ma chi t'ha detto di fare una cosa del genere? Ok. C'è andato? Ma, raga, ma che è il mago del nascondino, questo? È mezz'ora che mi segni i passi e non lo trovavo. Si è riuscita a buttare giù con una velocità imbarazzante. Dove è andato? Oh, mio Dio. Un fenomeno, signori. A dir poco, un fenomeno. Ma poi è subito scappato. Non ha cercato neanche il fight per mezzo secondo. No, non lo so. Cioè, prima si è difeso e mi ha sparato e mi ha tolto anche un bel po'. Però poi per il resto, niente. Ok, mi segna a spari di là. Si staranno facendo cerbero. Eh, ragazzi, non lo so. Mi toccherebbe sfidà... Ah, deve sbrigarmi un attimino. Stanno sparando di là. Secondo me qualcun altro ci sta qui, ragazzi, eh. Qualcun altro qui ci sta. Però dai, proviamo. Vediamo un attimino. Vediamo un attimino che cosa succede. Ehi, qualcuno è ansioso di unirsi a me, il mio dominio. Sì, sì, sì. Assolutamente, sono ansiosissimo di unirmi a te e al tuo dominio. Cambiamo la mitraglietta. Cambio sempre mitraglietta, raga. Contro questi qua sparo, ma non ricarico mai, raga. Ecco, adesso mi si sta ricaricando, praticamente, in automatico. Però sto cercando di non ricaricare mai le armi con loro, contro di loro. Per quale motivo? Perché... Ma che me l'ha data già... No, passi di qua, raga. Passi di qua. Passi di qua, ragazzi. Passi di qua vuol dire che... Passi di qua vuol dire che è un avversario per forza. Ok, ne siamo usciti. Abbastanza puliti. Anche se sicuramente ci sarà anche qualcun altro, eh. Perché qualcuno verrà di sicuro. Cioè, vi pare che mi riesco a fare adentù. Altri passi abbastanza ambigui. Infatti stanno sparando. Altri passi abbastanza ambigui, eh. E' quello di prima. E' Laura di prima. Ho miscliccato i tasti sette volte. Ho miscliccato... Ade! Ade! Ma quanto fai male, Ade! Oh mio Dio! Comunque quell'aura ha veramente rotto le scatole, eh. Mi sta rovinando la partita da prima. E' da prima! Sto maledetto! E' rimasto one shot con la vita verde. E comunque ha pensato a pusharmi perché stavo qui a curarmi. Niente, raga. Questo qua mi ha rovinato la partita. L'ho messo one shot tre volte. E' riuscito sempre a scappare. E alla fine è venuto a killarmi lui. Tutti i danni me, raga, l'ho subiti solo per colpa di Ade, eh. Cioè, sennò questo me lo bombavo tranquillamente. Ma guardate la miseria, oh, questo qua. Ah, vabbè. Comunque abbiamo fatto un bel po' di percentuale. Siamo a oro 3. Quindi direi che quest'oggi possiamo puntare al platino. Certo, se ci capitano altri player come quest'aura non lo so. Ok, ragazzi. Altro taglio abbastanza vicino al mondo sotterraneo. E vi dico, raga, ho rosicato parecchio. Perché questo veramente, cioè, se n'è andato, poi è scappato, poi è tornato. Mamma mia, ragazzi. Che pizza. E ovviamente poi avendo rimesso preparati, non ho cambiato la scia, giustamente. E raga, stavolta sono atterrato molto male. Qui però vedo una chest. Ne approfitto un attimino al volo, ragazzi. Perché se no sto senza niente. In realtà va bene, mi faccio prima gli shieldini. E poi mi faccio qualcosa dello slurpino. Ok, ragazzi, c'è uno qua in fondo. Spero non mi voglia pushare. Anche se in realtà per me sarebbe stato meglio, eh. Vi devo dire la verità. Perché comunque gli stavo facendo molto più danno io. Sono caduto senza volerlo, eh. Cioè, volevo utilizzare i teschetti. Mo' non so se li avevo finiti. Non so perché non me li abbia fatti riutilizzare. Ah, vediamo. Se lo ribecco. No, se ne... Non so se è lui, non penso. No, finiti i mazze, raga. Mamma mia. Mamma mia. Madre mia. Non c'ho i mazze, non c'ho i mazze. È inutile che continui a buildare, Gigi. È inutile. Non c'hai i mazze. È inutile che provi a continuare a buildare perché non hai mazze. No, qua non ci puoi buildare, però. Eh, ragazzi. Lì non potevo buildare. Eh, questo stava pure già con l'assalto epico. Comunque sì, era un altro rispetto a quello di prima. Peccato. Eh, meno 4%, ragazzi. Poteva andare peggio, eh. Poteva andare decisamente peggio. Cioè, raga, questo cattivissimo ha già sfidato... Sfidato Ade. Ma non sai neanche come funziona. Gli ha prima sparato. Ma... Scusate un attimo. Ma non c'è nessun altro da Ade in sta partita. Cioè, non c'è venuto nessuno. Cioè, io prima ho dovuto aspettare un quarto d'ora perché c'era una marea di gente. Questo, dopo aver killato me, non so quant'altra gente già ha sfidato Ade. Ah, no, no. C'è gente. Ok, c'è gente. No, perché già mi stavo offendendo un attimino, eh. Va bene. Ok. Ok. Stavolta il taglio è decisamente diverso dagli ultimi due di queste partite che abbiamo giocato. Quindi spero ci possa venire meno gente. Ma oddio, non lo so in realtà. Vediamo. Oh mio Dio. No, raga, ho miscliccato. Ho miscliccato. Cioè, mentre scendevo con le braccia, con il pollice sono andato sulla barra spaziatrice. E quindi ho giampato dal bus. Va bene. Atterreremo peggio di prima. Ma oddio, vabbè, ho visto atterraggi peggiori, eh. Ho visto atterraggi peggiori. Il problema è che stiamo atterrando sempre qui sul ponte. E se vi devo dire la verità, ragazzi, io questa conformazione della zona di Ade la odio davvero da morire. Perché è proprio complicata da gestire. Con tutte queste cose mezze distrutte, le ceste che stanno un po' in cunicoli particolari da gestire. Cioè, è tutto molto, molto particolare, per non dire altro. Allora, abbiamo gente sotto, abbiamo gente sopra nel palazzo di là. Come ha fatto a non prendermi il ful... Come fa... Come ha fatto a non hittarmi quel fulmine? Raga, mi doveva hittare quel fulmine. Cioè, che... Perché non mi ha hittato? Ok. Ok. Ok, stavolta mi ha hittato e non poco. No, mannaggia, pensavo di non prendere danno. Vabbè, meglio aver preso sto danno ma aver sbloccato le anime. Ma anche per sto motivo la odio. Sta zona di Ade. Perché... Cioè, io in questo caso ovviamente l'ho sfruttato a mio favore. Però quando ti deve scappare la gente che utilizza le anime è un casino. Allora, facciamo un po' di mazza che se no siamo veramente a secco. No, 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 no. Ragazzi, qualcuno ha sfidato Ade. Ma... No, no, no. Ma guarda bro, io non so... Il bro non moriva e io sto laggando ma probabilmente per colpa di Ade. No, no, che mi stanno pushando? Ade? Mi sta pushando Ade? E gli scagnozzi di Ade? No, no, no. Vi prego. Dai, ma che è sta cosa? Ma perché mi stanno pushando gli scagnozzi di Ade? Guarda lì! Cioè, mi stanno seguendo fuori. Ma che vuol dire? Ah, ok. Adesso pare si sia un attino calmato. Io, raga, mi devo curare un attino. No, 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 che si sono placati? Stanno lì, stanno ancora. Ma possibile? No, raga, io mi devo allontanare un attino da qui perché mi devo curare a tutti i costi. Allora, medikit, perfetto. Ora mi prendo il pump spammone perché comunque continuo a preferirlo anche in questa stagione. Allora, qui abbiamo trovato un bel po' di robettina. Quindi ci stiamo riprendendo. Ora, non so se qualcuno abbia pushato buonissima la mitraglietta anche se avrei preferito trovare qualcos'altro leggendario visto che l'obiettivo è quello di prendere la mitraglietta mitica di Ade. Quindi poi questa la lasceremo a terra. Ma per ora va benissimo così mi prendo tutto quello che arriva, eh. Allora, vediamo un pochettino che cosa sta succedendo perché sento degli spari. Ok, no, no, gli scagnozzi di Ade stanno qui quindi nessuno li sta pushando. Però sentivo degli spari, ragazzini. Qualcuno qui al mondo dei sotterranei c'è ancora, eh. Ok, qualcuno qua ha causato le impulsi. Vediamo se si ferma un attimo a che parte. Le hanno buildato. No, non si ferma. Avrei dovuto provare a checkinarlo subito. Speravo si fermasse perché magari si doveva curare. Attenzione, eccolo. Dove vuole andare ad aprire la cesta? No, era già aperta. Madre mia, signori! Ma era one shot praticamente. In realtà l'avevo capito fosse messo male perché stava scappando, stava facendo cose, eccetera, eccetera. Però appunto speravo si fermasse a curarsi da qualche parte. Almeno l'avremmo ucciso da fermo, ma va bene anche così. Ok, io adesso ho un problema. Che faccio? Vado subito da Ate? Non ci vado? Lo provo a killare? Che faccio? E boh, vabbè, dai ragazzi, ci riprovo. Che devo fare? Ci riproviamo. Quello sta fermo lì. Non lo so, ragazzi, eh. Non so quanto sia stata la cosa migliore. Venire subito qui a pushare gli scagnozzi di Ate, però va bene. Ok. È nato lui? Ancora no? Perché gli voglio tirare subito una cecchinata appena arriva in campo. Eccolo qui. Un uomo sfidante entra nell'arena. Io! Va bene, Ate. Ate, anzi. Ma ogni tanto, raga, mi viene da chiamarlo. No. Ok, go. Come è già morto? Raga, ma aveva ancora un sacco di vita. Quanto danno gli ho fatto? No, aspetta, usiamo la boccia e mi tengo i due scildoni. Quanto danno gli ho fatto, raga? Aveva ancora metà vita rossa e l'ho tipo one-shotato. Ogni tanto stanno succedendo cose abbastanza strane in questa stagione, se posso dire la verità, eh. Meglio così, però. Cioè, io adesso mi sto lamentando di una cosa buona che mi è successa, però va bene. Allora, quindi abbiamo la mitra mitica di Ate. Ripeto, spero di non essermi sbagliato troppe volte. L'ho chiamato Ares di qua e di là. Abbiamo il medaglione che ci permette di avere il Siphon. Quindi adesso, quando killo qualcuno, recupero Shield e Vita, sostanzialmente. Quindi buonissimo. Non posso andare a sfidare Cerbero, nonostante sia lì. Ancora non l'abbiano sfidato. Io, purtroppo, ragazzi, ho questo bug che non posso sfidare più di un dio a partita. Ho visto che non molti l'hanno ancora capita questa cosa, ragazzi. Se non potete sfidare più di un dio a partita come me, in realtà è un problema. Perché ci sono tante altre persone che invece possono farlo. Possono sfidare quanti dei vogliono in un singolo game. E non ci sono soluzioni a questo problema, purtroppo. Comunque, a differenza di Zeus, questa volta siamo riusciti almeno a superare, in realtà, un paio di volte lo start. Perché pure prima, comunque, nella prima partita, ci siamo comportati troppo male. Certo, non abbiamo preso Ate, non abbiamo preso l'arma mitica e il medaglione. Però va bene lo stesso. Il cecchino questo qui non ha il mirino che piace a me. Il fulmine, ragazzi, lo lascio perché preferisco avere il cecco. E c'è... Ah, no, no, l'hanno preso, ragazzi. Ah, no, questa è la taglia, ragazzi. È la taglia. Madonna, ma che è la taglia? Ma che l'hanno modificata, la taglia? Adesso la taglia sembrano i medaglioni, vabbè. Comunque, gente ce n'è venuta qui al cerbero. Ok, lo stanno sfidando adesso. Io ancora devo capire molti segni che cosa vogliono dire, eh. No, no, sta ancora qui, ragazzi. Vediamo, proviamo se riesco. Oh, me l'ha fatto fare, raga! L'hanno corretto il bug? Me l'ha fatto fare! Non so se hanno corretto il bug oppure perché il ranked me lo fa fare. Forse perché il ranked me lo fa fare? Ma, raga, allora è confermato che è un bug maledetto. Oh, mio Dio. Quindi il ranked me lo fa fare. E poi dovrò provare... In pubblica dovrò riprovare. Dovrò assolutamente riprovare in pubblica, ragazzi. Eh, signor Cerbero, quando vuole spawnare, che qui non è che ho tanto tempo da perdere, eh. Oh, ok. Oh, con sto pump andiamo piano, eh. Andiamo piano con sto pump. Ok, e ce ne siamo presi un altro, raga. Altro medaglione per noi. Col Cerbero ci si ricaricano le anime alle spalle di continuo, quindi praticamente abbiamo un buon movement. Non è proprio il migliore, diciamo, di tutti, però in realtà non è neanche male, eh. Anzi, ho già detto più volte che in competitive probabilmente questo qui del Cerbero sarà uno di quelli più combattuti, perché se lo verranno a prendere sicuramente. Cioè, in competitive, raga, questa cosa qui, questo dash qui, è devastante. Tra l'altro abbiamo ricominciato con le reaction sul mio quarto canale qui su YouTube, su GG Specials, quindi se ve le volete andare a recuperare andatevele a vedere, c'è il link in descrizione. Tra l'altro, ragazzi, sto notando adesso che, allora, la mitraglietta mitica che ti dà Ate, c'ha quattro modifiche, effettivamente. Il pump del Cerbero ce n'ha solo tre. Vabbè, vabbè, gli mancherebbe il mirino, ma chi se ne frega effettivamente del mirino, vabbè. Però, cioè, hanno fatto un'arma mitica senza... senza tutte e quattro le modifiche che potrebbe avere. Per non parlare del fatto, ragazzi, che anche in questa stagione le armi mitiche mi sembra abbiano delle modifiche che proprio non mi fanno impazzire, se proprio devo dire la verità. Ma siamo alle solite. Uh, attenzione, qualcuno in macchina qui. Che però sta andando dall'altra parte. a te, attenzione. Ok? No, è risalito? Mi ha visto? Non mi ha visto? Sì, sì, che mi ha visto. Devo un attimino abituarmi a sparare con... con sto pump, eh? Devo un attimino abituarmi a sparare con sto pump e con sta mitraglietta. Perché... perché ancora non li so usare bene. Attenzione! Stanno sparando di brutto anche qui. Cosa sta succedendo? Lisciato malamente, va bene. No! Let's go! Ok, vediamo dove scappa. Bro, provo a rincorrerti. Non so quanto possa essere una buona idea. Oddio! Raga, mi ha fatto prendere un colpo! Allora, fermi tutti. Senza cecco? Giochiamo veramente senza cecchino? Non lo so, ragazzi. Senza cecchino e senza folgore di Zeus mi sembrano due cose da tenere. Però, raga, sto facendo la challenge con l'arma mitica di Ade quindi non la posso lasciare. L'arma mitica di Ares mi sembra l'arma più forte attualmente in gioco. Non so che fare perché io in realtà adesso dovrei lasciare la mitraglietta di Ade e prenderò il cecchino e la folgore di Zeus per tenere almeno il movement. Però sto facendo la challenge quindi la mitraglietta di Ade la devo tenere. Dai, vabbè, mi tengo il cecco, raga. Ma, raga, ho buildato! Gli alberi maledetti, grazie mille. Raga, non ho distrutto? Gli alberi maledetti, grazie mille. Gli alberi maledetti, grazie mille. Gli alberi maledetti, grazie mille. Ok, godo. Ho preso il siphon, spero, fortunatamente. E bella tosta, eh. Bella tosta sta... Sto fight è stato. Bello tosto. Oh, ma sto... Sto cecchino non ha altre modifiche? Ma allora no, fermi tutti. Cioè, un cecchino viola con solo il coso. Con solo la modifica del mirino, praticamente. Vabbè, quindi prendo questo. Cioè, mi riprendo il mio. Mamma mia, quanto mi dispiace lasciare l'assalto di Ares, ragazzi. Cioè, voi non avete idea di quanto mi dispiace lasciarlo qui così. Però, per forza. Ripeto, con la challenge di oggi sono costretto. Il problema, ragazzi, è che io adesso mi devo un attimino... ...curare. Non ho capito se c'è il DMR o il cecchino. Non ho capito. No. Eh, raga, ora mi lasereranno, eh. In volo mi lasereranno, sicuramente. Però, che devo fare? Mamma mia, raga, mi aveva segnato quegli altri passi. Oh, mio Dio. Eh, 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 eh. Scappa, scappa, scappa. Raga? Ma... Madonna mia! Raga, io stavo per entrare in quel cespuglio per camperare. Stavo per entrare in questo cespuglio per camperare. Oddio, che bello il siphon, ragazzi. Mamma mia, che bello. L'essermi ricaricato dopo aver fatto la kill. Che spettacolo. Ma meno male, raga, che l'ho sentito. Ma tra l'altro si è sbagliato e ha picconato. Io poi mi stavo per andare a nascondere in quel cespuglio, tra le altre cose. E siamo ancora in nove, tra l'altro. Cioè, la lobby si era svuotata in mezzo secondo. E adesso siamo ancora in nove. Mi sa, tutti altri camper come questo qui, giustamente. Ma il med... Ma raga, il medaglione di Zeus non l'hanno preso. Non l'hanno preso il medaglione di Zeus. Cioè, la gente veramente non si sta affilando Zeus. Beh, perché tanto la folgore di Zeus la puoi trovare ovunque. Quindi non è che ti interessa. Sì, il medaglione ti velocizza. Però potrebbe non essere quel motivo per cui andare da un boss così tanto ambito. E il DMR probabilmente non se lo sta effettivamente filando nessuno. Ora, quello lì, secondo voi, se io tento una cecchinata incredibile, mi entra? Ma io ci provo. No, ah, ah. Sarebbe stato troppo bello. Sarebbe stato troppo, troppo bello. Troppo, troppo bello. Comunque devo stare attento. E anzi, vi dirò di più. Mi sposto verso di qua, che è la zona morta della safe. Dove non dovrebbe esserci nessuno, perché fino a poco fa c'era la tempesta. No, ragazzi! Cioè, io mi sono mosso verso di qua e poi la safe è da tutt'altra parte. Mannaggia la misera. Sì, vabbè, ma quello si sta pure a far coso là. Tocca passare per di qua, regà. Ma guarda con che cattivere si stanno boxando, raga. Cioè, si stanno full boxando tutti quanti. Ma che è? Raga, raga, aspetta. Questo raga sta a fa' su e giù. Ok, vabbè, un 115 me lo accetto come danno. Almeno gli abbiamo messo un po' di pressione. Tanto adesso lui si riuscirà a curare tranquillamente. Però almeno intanto... Eh no, tanto non ho cure praticamente. Cioè, nel senso, non è che me posso inventare chissà che cosa. No, non gli sono riuscito a salire. Eh, il problema, ragazzi, qua... Oh, non mi builda la cosa. Ma il problema, regà, è che non ho cure. Non ho cure, non ho nulla e mi servirebbe una kill col siphon. Quindi se avessi killato questo sarebbe stato tanta tanta roba. Ora, io a livello di movement non sono messo male tra le ali e le anime. Però diciamo che mi tocca fare un giro del cavolo del genere. Che non è stata proprio forse la mossa migliore. Però almeno così vado già verso la safe. Oddio, non mi dire che c'è gente qua. Perché se no sono fregato. Con una cecchinata dovrei essere morto. Ah, no, qua era dove ho fightato io prima. Perché ho lasciato delle cure, eh? Forse ho lasciato un medikit col tipo. Eh, raga, non lo so. Non posso perdere tempo a cercarlo perché sta arrivando la tempesta. Ok, 115. Però, regà, sto a tirare 115 a destra e a manca. Però non sto killando nessuno. E per me attualmente, come vedete, sarebbe fondamentale killare... Ah, no, era qui che ho ucciso quell'altro. Per me sarebbe fondamentale killare qualcuno per prendermi il siphon, regà. Mi sto tenendo il cecchino in realtà anche per questo motivo. Sto attentando qua. No, però questi passi che mi segna qui non sono di quello. Ok. Meno male che ho ragionato rapidamente che non... Che non poteva essere quello. Lui sta lì, eh? Non lo so, però io sono... Con la safe abbastanza vicina. Sta killare, regà, mi ha totalmente rimesso in gioco, eh. Perché sennò io ero veramente un cadavere che camminava. No. Ok, sta sparando a quell'altro. Io mi metto giù, tipo. Vediamo se riesco a rubare un'altra kill. Ah, allora, in realtà... In realtà non sono messo molto bene. Devo essere molto sincero con voi, devo essere. Mamma mia, sta cosa del cerbero, regà. Quanto è rotta. Mamma mia, sta cosa del cerbero. Quanto è rotta. Mamma mia, però pure col ce... Io ve l'ho detto col cecchino. No, io non me lo toglierò mai il cecchino. Della serie, toglietemi tutto, ma non il mio cecco. Toglietemi tutto, ma non il mio cecco. E si va a gridare. Senza la musica, perché sennò c'è il copyright. Regà, come al solito, sarà il replay della scorsa stagione. C'ho il cecco, vi faccio delle buone partite. Sto senza cecco, sono il giocatore più scarso della season. Madonna mia, come l'abbiamo presi a sculacciate. Quante kill abbiamo fatto alla fine? 9 kill, vittoria, e si prende il platino così, con un game. Let's go. Perfetto, raga. E anche un bel po' di percentuale, eh. Un 98% abbiamo fatto. Ok che c'è il boost del cambio rank, però, insomma, è un gran bel boost. E si va a fare... Beh, oddio, in realtà ci abbiamo ancora un po' di tempo, eh. Ci abbiamo, perché mancano poco meno di 20 minuti. Quindi, comunque, anche se dovessi filare il prossimo game, ne dobbiamo startare un'altra ancora. Ok, altro taglio molto lontano dal mondo sotterraneo. No, teoricamente, adesso che siamo arrivati a platino, le situazioni dovrebbero essere un po' più complicate. Non che fossero troppo facili ste lobby, eh, perché comunque alla fine eravamo in 9, tutti belli camperati. Come al solito mi hanno salvato le cecchinate, perché senza le cecchinate, non so manco se poi alla fine della fiera sarei riuscito ad arrivare in endgame. Di sicuro non avrei fatto 9 kill. Però, comunque, devo dire la verità, stiamo prendendo la mano sia col pump, non mi dispiace per niente questo nuovo pump, e anche con la mitraglietta. La mitraglietta tanta, tanta roba, devo dire la verità, tanta roba. Ma, infatti, non è che fossi troppo dispiaciuto nel tenere la mitraglietta di Ade, eh. È che però l'assalto di Ares col medaglione di Ares diventa davvero devastante anche in un possibile endgame. O comunque, raga, ogni volta sto atterrando qui sul ponte, vabbè, cerco di andare alle casette un po' più di qua esterne. Ma non è che mi sto trovando troppo male ad atterrare lì, è che però sono talmente scoperto che se poi qualcuno mi spara da lontano, sono fregato. Allora, raga, dato che mi segna passi qui, io direi che mi vado già a curare. Non mi ha fatto buildare, tipo, da nessun'altra parte. Ok, ora sì. Lì non si può fare il piano. Sta questo, sta qua sotto. No! Raga, è stato un riflesso incondizionato del mio corpo, cioè ho sparato col pump e volevo switchare sulla mitraglietta, solo che non avevo la mitraglietta, bensì le granate, come avrete notato. Però l'ho killato, l'ho killato. Io sono sopravvissuto, mi sono fatto 150 di danno così a gratis. Volevo tranquillamente risparmiarmelo, però va bene lo stesso. Ora, questo qui che vuole mo? Secondo voi vuole diventare amico? Oddio, qua ci stanno degli scildini. Anzi no, è uno solo, ma me lo faccio andare bene. Madonna santa! Madonna santa ragazzi! Che pompata che... Vabbè che c'ho solo 125 di vita effettivamente, quindi ci può stare. Vabbè, peccato ragazzi, peccato. Ripeto, questa cosa delle anime che puoi fare questi dash è difficile gestire lo start date. È veramente difficile. Vabbè, poi in realtà qua sono morto perché ho fatto la pollata che i granati se avessi avuto più vita forse qui me la sarei potuta gestire, anche perché gli avevo fatto un 79 a questo, eh. Ok ragazzi, allora, andiamo. Stavolta cerco di atterrare un po' meglio da qualche altra parte, però, eh. Cioè, non sempre in quella zona, diciamo. Cioè, cerco di atterrare più tipo verso di qua se ci riesco a vedere qualcosa con sta cavolo di scia. Eh, raga, a sta botta mi sembra ci sia atterrata un po' più di gente rispetto al solito, eh. C'è un po' più di gente rispetto agli altri game. Ci prendiamo subito questo pump. Ci facciamo sto barilotto buttato un po' qui a caso e soprattutto ci facciamo già un po' di materiali. Vi dirò di più, raga. Qua sotto ci dovrebbe essere una God Chest. Tra l'altro, ragazzi, ieri è uscita la solo God Chest Loot Challenge. Ed è andata molto bene che è il DMR. Mannaggia la miseria. Mannaggia come il DMR. Porca miseria il DMR, raga. Ma io lo lascio qui il DMR. Vabbè, giusto perché ho il Nemesis e lo voglio cambiare. Se no, lo lasciavo proprio là. Che sfiga, ragazzi. Ci siamo ludati la God Chest. Mi sa l'unica di... No, qualcun'altra se l'avevo aperta. Però, se pareva a te che dovevamo trovare il DMR del cavolo. Allora, questo sta qua sotto probabilmente. Qua... No, non si può picconare qui, è vero. Oppure sta... No, no, questo sta sopra. Questi stanno... No, bro, bro, stai calmo. Stai calmo. Sono io il vero Zeus. Bro, stai calmo. Bro, da dove sei arrivato tu? Ma non si può buildare la scala. Che scam. Ma come non si può buildare la scala lì? Ma in che senso? Ma che è caduto quest'altro? Dove sta? Oh mio Dio, regà. Ma perché lì non si può buildare la scala? Ci sono alcuni punti della mappa e non capisco perché alcune cose si possono buildare, altre no. Provo a farmi il medikit. Anche se questo non ho capito, dannato. Cioè lui sicuramente sapeva che ero one shot però non so perché mi abbia lasciato stare. Comunque questo è un pazzo furioso. Era nel box e mi fa il potere di Zeus. Ma vabbè. Allora, il ponte qua come al solito non l'hanno lootato, ragazzi. Il ponte come al solito non l'hanno lootato quindi mi luto qui con molta calma se riesco perché comunque non è detto che io riesco a lootare con molta calma e poi torno lì magari andando a cercare il buonate o meglio, no, andandolo a cercare andandolo a sfidare. Comunque per adesso cerco di utilizzare il nuovo pump è così. Tanto per sia prenderci la mano ma anche perché comunque attualmente mi sta piacendo molto. Ok, raga, no. C'è chi... Oh, no, no, passi. Ah, fermi tutti però perché lì... Ah, no, sta... Sta lì. Oh! Raga, se continuiamo a essere così mostruosi anche con il potere mitico di Zeus. Io qui, raga, non so se andare in giro col cieco o col potere mitico di Zeus. Vabbè che queste cose sto facendo io probabilmente sono veramente facili da fare, eh. anche perché non mi sembra così difficile utilizzare il potere di Zeus. Però, raga, qui stiamo macinando, eh. Stiamo macinando kill. Vi dirò di più. Per ora le ali non le prendo. Per ora le ali non le prendo. Anche se potrebbe essere un attimino un punto a sfavore per me. Però rimaniamo con il cieco e il... E la folgore di Zeus. Ma quello perché se ne sta andando? Quello se ne sta andando, raga, con le ali. Ah, raga, io comunque nel frattempo mi dovrei fare gli sciglini. Che dite? Forse è meglio, eh. Allora, la safe... Oh, mio Dio, è lontana. Ha cecchinato qualcun altro da di là. Raga, che brutto liscio che ho fatto. Io il cecchino con sto mirino non lo so usare, mannaggia la miseria. Non lo so usare sto cecchino con sto mirino, mannaggia a me, mannaggia. Ah, lo preferisco quasi senza mirini. E sicuramente neanche quello per tre di mirino mi piace. Eh, quello, raga, stava fermo. Cioè, era proprio easy, easy, easy da uccidere. Vediamo se con la folgore questo qua lo riusciamo... Appunto a folgore... Eh, sì, sì, che lo folgoriamo, eh. Ok. Madre mia, signori! Madre mia! Madre mia, però dobbiamo stare attenti a quell'altro che però potrebbe anche non aver pushato, eh. Potrebbe anche semplicemente starsi a fare gli affari suoi. No, no, no. Sta sfidando Ate. Ah, raga, ma Ate sta già fuori safe. Che mi invento io mo? Che sta facendo? Che sta facendo? Ma lo ha sfidato Ate o no? Ah, raga, io mi devo prendere le bender che se no non arrivo... Ok. Sì, c'è lui. No. Ma chi? No, adesso stanno sparando a me. No, raga, però devo capire se c'è l'altro player. Raga, è troppo forte. Raga, è troppo forte. La folgore di Zeus è troppo forte. Troppo... Oh, bro! Troppo forte, raga. La folgore di Zeus è troppo forte. Troppo. C'è proprio... Veramente troppo. Però per adesso la devo droppare perché mi servono troppo queste ali dopo per scappare. Quindi, purtroppo... No, 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 raga. Mi vuole prendere con la catena. C'ho il cecchino scarico, ma ti pare? Vabbè, niente. Niente. Ok. Oh, mio Dio. Che casino, ragazzi. Che casino. Allora, fermi tutti. Fermi tutti. Faccio prima lo shieldino. Lo shieldone. Mi prendo il medikit e dobbiamo filarcela in safe, ma proprio di brutto. Qualcuno ha preso anche il medaglione di cerbero. Quindi dobbiamo tenerlo bene a mente il fatto che abbiamo gente qui verso la safe, eh. Io però ad un certo punto dovrò scendere con le ali perché mi devo fare il medikit, ovviamente. Qua c'erano altre cure tipo di vita, di cose, no? Bende, bende, bende. Mi faccio le bende per adesso perché, raga, la safe è veramente lontana, eh. Raga, il cecco sinceramente l'avrei anche potuto lasciare, però il problema è che tanto la folgore pure l'avevo praticamente finita. Cioè, non è che c'avevo tre colpi con la folgore, ce ne avevo proprio pochi. Mi sa, uno ne era rimasto. Quindi, tanto vale, mi sono tenuto il cecco e magari riesco a modificarlo anche perché qui adesso ci sta il coso. Potrei andare lì, effettivamente. Potrei andare lì, ragazzi. Vediamo se ce la faccio, eh. Ah, ma anche qui. Anche qui in safe. Magari trovo altre cure, eh. Magari trovo altre cure, ragazzi. Vediamo un po'. Allora, vediamo se ci trovo altre cure. Medikit, medikit, ma soprattutto cura bomba che mi faccio subito. Niente. L'arma è... L'arma leggendaria è una mitraglietta che ovviamente non ci può interessare. Un altro medikit, signori. E il cecco senza mirino? Perfetto. Però è leggendario, quindi lo prendo e soprattutto lo modifico. Adesso non ci stavo a pensare, ma lo possiamo modificare. Fermi tutti. Ma in realtà, ragazzi, a questo punto vado anche a potenziare il... il pump. Ok. Anche qui la mitra sarebbe stata meglio quella leggendaria, ma modificata come volevo io, visto che questa qui diade non è che sia proprio modificata come piace a me, però va bene lo stesso. Giochiamo con questa oggi, ovviamente. Sì, comunque mi farmo l'oro, ragazzi, tanto ho sette medikit, quindi la tempesta non dovrebbe essere un problema. Raga, c'è uno qua sotto e che si è girato perché ovviamente ha sentito le ali. Raga, non mi sono entrate le ultime hit, ma vi pare... ma vi pare normale non mi è entrata l'ultima hit? Mannaggia a me, mannaggia. Dove è andato? Ok. Ah, ma l'ho finite. Ok. Ha dato la kill. Eh, raga, l'ho finite le ali. Che devo fare? Allora, vediamo un po'... Uh! Ah, no, mi sembrava un'arma mitica, quindi pensavo fosse quello del cerbero, ma non è quello del cerbero. Eh, allora, c'ho i medikit, ma ragazzi, mi serve assolutamente shield. Io contro di questo non so come ho fatto a prendere tutto sto danno, cioè veramente, mi ha laserato ed era un cucciolotto a tutti gli effetti. Raga, qua hanno fatto fuori bot, ma la card l'hanno lasciata qui, cioè non sto capendo. Sì, la... Ma che si sono uccisi tipo a vicenda due player che erano venuti qua? Oppure tipo era una trappola, io invece sono venuto qui, tranquillo. Allora, qua però c'è gente che fighta. Io l'ho rubato perché sicuramente... Meno male erano tutte e due one shot perché non mi è entrato neanche un headshot, ma ci portiamo a casa così. Due kill, easy, perfetto. Mi sono anche ricaricato lo shield, ovviamente grazie al siphon, ma soprattutto vedo delle ali così almeno abbiamo del movement, raga. Riesco a salire senza dover buildare, mi sa di no, ma tanto gli altri mazze ce li danno loro. Certo, il secondo bro molto tranquillo lui, eh. Cioè nel senso, ti hanno appena ucciso un avversario così davanti agli occhi, a lui non è fregato nulla, raga. Cioè è rimasto qui, tranquillo, sereno, non gliene è fregato niente. Ok, c'è altra gente qua? Ma forse solo uno, non lo so, stiamo attenti. Madonna raga, era più concentrata la lobby quella in gold, perché qua siamo già diventati in dieci. E prima comunque sia in nove siamo arrivati in endgame praticamente. Mamma mia, queste zone dei vecchi boss ragazzi attualmente c'hanno tutta un'altra sensazione, cioè c'è tutta un'altra sensazione di entrare qui. Cioè tu sai che qui non c'è Valeria, magari qua vicino non c'è nessuno col medaglione, anche se alle spalle a destra c'abbiamo quello con il medaglione del cerbero probabilmente, eh. quindi comunque dobbiamo stare attenti. Però comunque rimangono zone con un sacco di loot raga queste qua dei vecchi boss quindi rimangono abbastanza interessanti. Ovviamente vado a mettere già la prossima tempesta visto che abbiamo appunto il radar delle tempeste. Zeus questa volta l'hanno preso e hanno preso anche Ares quindi a sta bot abbiamo preso tutti gli dei in sta lobby e la prossima safe ancora è a gran ghiacciaio però faccio il giro per di qua ragazzi, eh, ve lo dico. Me la prendo con un po' più di calma a questo punto cerco di vincere anche sto game. Anche perché tanto abbiamo 7 kill quindi cercarci troppe kill si ok ci fa più fare più punti però non è non è un problema. Tanto raga il tempo l'abbiamo sforato quindi non posso più startare game. Ok raga c'è qualcuno che sta sparando la folgore a questo qui in macchina. Mazzola la macchina stra resistente ha resistito a 6.000 folgori e adesso era la serata della mitraglietta mitica. mamma mia no eh c'è gente che è plana no più in là più in là più in là vareva a te eh GG ah raga ma io non ho cure non ho non ho cure mannaggia 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 in queste situazioni ma io forse dovrei portare cecchino e folgore cecchino e folgore vado in giro senza cure ma quello raga ma quello ma sul serio fa quello sul serio fa oh mio dio allora facciamo un attino il medikit il problema raga è che non ho non ho shield non ho niente maledetto maledetto che non sei altro ok voglio prendere le misure in realtà con lo sparo di prima eh eh ma è difficile tanto difficile raga tanto difficile ragazzi non mi conviene piuttosto mi convenia di più ma eh raga mi laserano in volo e muoio a meno che non abbiano fai dato un attimino tra di loro però no raga qua non c'è la non c'è la cosa non c'è sono venuto qui proprio per prendere qua c'era la macchinetta la vending machine dico mi compro gli shield sto a posto troppo gasato ero allora qui a gran ghiacciai mi sa che non hanno praticamente lutato io raga ne approfitto si vabbè solo solo medikit trovo ma è una gioia ho un medikit cioè uno shieldone mamma mia raga non lo so con che fortuna sono riuscito a scappare e non ho neanche capito se quello con le ali era quello che stava sopra sopra la montagna o un altro allora qui comunque un po' di loot ci sta ragazzi quindi io ci vengo però certo ammazza una sola cesta cioè questo era questo di montaghi ragazzi era veramente il bunker più grande nella scorsa stagione in questa non ha praticamente nulla la folgore raga eh tanto le ali le ho finite le ali le ho finite vi dico che provo a fare quella cosa che vi dicevo prima eh qua ragazzi ci sono altre cesta non hanno proprio lutato però adesso non avendo movement non avendo neanche i dash eh raga proviamo proviamo giochiamo così giochiamo senza cure ragazzi raga siamo rimasti in tre due debotto oh mio dio che è successo ma tutti i medaglioni lì stanno che oh mio dio ragazzi ma che è successo ma qui è da capire se l'ultimo che è rimasto con me è quello che ha ucciso tutti oppure semplicemente gli altri si sono uccisi un po' così a vicenda raga secondo me si sono uccisi un po' a vicenda e l'ultimo sta lì dove ho finito di vedere le build che si stavano finendo di buildare appunto scusate il gioco di parole quindi ho qui ne approfitto e vado a lutare questi ultimi medaglioni anche perché io raga in questo momento ho l'unico medaglione inutile perché ade in uno contro uno è inutile perché avere il siphon se tanto sei degli ultimi due è inutile che la recuperi a fare la vita se tanto uccidi l'ultimo e quindi hai vinto è praticamente inutile di conseguenza io adesso cerco di prendermi a tutti i costi questa robettina qui sperando di non farmi trovare impreparato dall'avversario abbiamo preso tutto penso pam ragazzi vai facciamo un change questo è quello leggendario ah no ragazzi quello mitico del scerbero ma le altre armi mitiche ah c'è altra roba lì ma che hanno fatto questi raga ma un casino hanno fatto raga questi qua cioè ma che cos'è ma fermi prendo anche questo mi prendo tutto 5 di vita li recupero però non c'è l'arma mitica di Ares vabbè ne farò a meno non c'erano neanche i shield mi sa da quello che ho visto e lui ahhh simpaticissimo proprio simpaticissimo ok dimmi che no raga non deve scendere lui devo salire io non deve scendere lui devo salire io ragazzi non deve scendere lui devo salire io questo è un problema Zeus in persona oppure è troppo forte il potere me sa che è troppo forte il potere mamma mia ragazzi che botte che gli abbiamo dato a quest'ultimo ma che belle partite signori ci siamo proprio ripresi con gli interessi dopo il brutto episodio della scorsa della scorsa puntata diciamo così cioè ci siamo andati a prendere prima oro 3 perché erano rimasti bloccati a oro 2 poi platino 1 e adesso addirittura platino 2 più 81% mamma mia signori altra win 8 kill questa volta meglio di così oggi non poteva assolutamente andare detto questo ragazzi mi raccomando lasciate un bel mi piace per supportare la serie fatemi sapere nei commenti dove atterrare nel prossimo episodio io direi di farci intanto quelli dei boss quindi magari potremmo andare o da Cerbero o da Ares dato che da Zeus ci siamo già andati vi ricordo il codice creatore ggy non ti tutto grande tutto attaccando le cozzoggetti di fortnite fondamentale per supportarmi iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto per me è tutto ci ritroviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale ciao ragazzuali